Successo interno per la Romulia di Francolini che supera per 3 a 2 la Samagor al campo Roma grazie ai gol di Messi e di Fiori e Aquilini, ospiti che trova in momentaneo pari con Coluzzi e il 3 a 2 finale con il gol di Bordini. Romulia che va subito in vantaggio dopo appena 7 geni di lancette, grossi in elenco, il mare, il portiere, l'ospite e poi Messi di testa mette in rete 1 a 0 in favore degli Amaranto Oro. La Samagor risponde con un crescenzo da fuori, alta sopra la traversa, poi alla 32esimo Amaranto Oro di nuovo in proiezione offensiva, cross di mango e colpo di testa in rete ma in posizione di offside. Pogodò Bottori, la prossima della formazione ospite in aperta ripartenza, spera da sinistra per Janovski, conclusione da parte del numero 10 della Samagor, alta sopra la traversa. Le immagini passano la ripresa con al settimo Romulia, venosa da corner. Poi un minuto più tardi Bartucca, prova ad entrare in area di rigore, spera che arriva Di Fiore con il portiere ospite che deve unire a fare nel calcio d'angolo. Ancora padrone di casa al nono e ancora Di Fiore protagonista a destro del nuoro, sul fondo al quarto d'ora, punizione ancora per la Romulia, Spera in area di rigore ma conclusione fuori misura. Alla sedicesima arriva il pari della Samagor ed è davvero un gran gol, lancio con i giri giusti, Coluzzi trova lo stop e la conclusione al volo, palonetto boffardo e uno a uno della formazione a rompire. La Romulia non ci sta e torna così in attacco, contropiede della formazione a Maranto Oro di casa, spera che arriva ancora a Di Fiore che prova ad entrare in area di rigore, conclude un palla a porta vuoto. Don Samagor che si salva in affanno, poi da corner ecco il 2 a 1 con il tap in vincente dello stesso Di Fiore che riesce a trovare la gioia personale del nuoro, partito della formazione di Frangolini. Traversa piena invece per De Angelis al trentaseiesimo con padroni di casa vicinissimi al Triss. Samagor che un attimo dopo tenta il tutto per tutto e va davvero ad un passo dal pari, scambio corto con Agostini che trova Coronas che debita in a corner. Nel finale Romulia in aperto contropiede vicina a gol del 3 a 1 con spera da destra verso il centro. Il cacciatore che supera il portiere, poi palla che termina in out, 3 a 1 che arriva davvero invece nel recupero con Agostini in pallonetto che chiude davvero i conti. Infine 3 a 2 per una Samagor, mai doma con cross che arriva dalla destra e colpo di testa per Retto da parte di Bordin che trova così la gioia personale. Infine non c'è più tempo e Match che termina qui.